Una serata che rimarrà certamente negli annali, quella andata in scena sabato scorso al Teatro Ciccolella di Ortanova, dove la New York Band ha incantato una platea gremita all'inverosimile, che ha potuto apprezzare gli sforzi dell'orchestra composta da soli musicisti ortesi, diretti dall'eccellente maestro Francesco Ariemme, che con sagacia e passione ha messo su questo splendido progetto. La serata ha visto la presenza di Tony Sant'Agata, che si è esibito accompagnato proprio dall'orchestra ortese. Apprezzati i suoi brani più conosciuti, anche grazie agli arrangiamenti curati dal maestro Ariemme, mentre durante la serata sul palco è intervenuta anche la sindaco di Ortanova Iaia Calvio, che visibilmente entusiasta del lavoro dell'orchestra, ha promesso durante la prossima festa patronale di giugno una serata interamente dedicata alla New York Band. Grazie a tutti! Grande festa a fine serata, con il pubblico che ha tributato un lungo applauso ai componenti dell'orchestra, a suggellare quello che sarà ricordato come uno dei momenti più belli della recente storia musicale ortese.